Ben tornati ragazzi questo è un altro tipo di video e ve lo sento dirvi un attimino che questo è un altro tipo di video diverso dagli altri sono montate delle varie scene commentate al tempo stesso ma non è in tempo reale quindi insomma godetevi quello che state vedendo quello che vedrete e boh niente alla prossima ciao ragazzi eccoci qua ragazzi sempre su Mad Max e stavo contemplando l'idea che è molto bello questo paesaggio e lui assomiglia tantissimo a Nathan Drake ragazzi ho fatto una mazza e voglio provare a tirargliela sulla gobba ma non riesce ma neanche sulla macchina riesce a dargli le botte non so perché vabbè proviamo ad entrare con la mazza no niente la mazza non me la fa portare incredibile la mazza non me la fa portare nella macchina ecco ragazzi succedono delle cose particolari in sottogioco guardate un po' per terra cosa striscia cioè pare che ha lanciato pure la mazza è incredibile ma cosa c'è lì per terra sembra un tipo un topo che cazzo bene ragazzi andiamo nella prossima destinazione vediamo che cazzo c'è oh ma che cazzo succede mi hai spinto la parete la macchina non si fa niente incredibile ora non so voi ma le texture fanno cacare su questa roccia eh non vorrei dire ma vabbè ragazzi al massimo almeno c'ho la nitro dai che se ne frega spacchiamo tutto madonna che spettacolo ecco queste sono le cose che mi fanno godere oh finalmente si goda un po' bene l'ho mancato perfetto ma lo sperano mento ragazzi madonna vediamo un po' se riusciamo a pigliare la botte in faccia questo stronzetto dai dai siamo ancora nel tutorial quindi raffanculo mi ha fatto poco danno strana come cosa però vediamo un po' se ok mettiamolo sotto come che cazzo succede oh ma cosa fa ho detto li metterò sotto è incredibile oh mi sta menando oh ancora che mi fa ma non si stacca questo stronzo guarda il pelataccio oh e mori no niente da fare devo scendere dalla macchina e farle il culo ma va a cacare va ecco missione completata una delle prime missione ecco bravo lavora gobbaccio bastardo grazie a tutti